Il Capodanno cinese conquista i Cagliaritani Folla nel rione portuale della Marina per assistere appunto allo start delle giornate di festa della vasta comunità orientale che è presente nel capoluogo sardo. Dragoni, leoni, anche i mancabili panda e poi la musica e i ritmi assolutamente orientaleggianti. Una inizione, quella del 2019, che inizia oggi, che si concluderà tra sette giorni, sette giorni, una settimana con molti eventi. La curiosità dei Cagliaritani nel primo sabato sera del mese di febbraio è davvero tanta questa, è la cornice di pubblico nella zona del consiglio regionale, tutti incuriositi e tutti armati di smartphone e anche delle classiche macchine fotografiche per immortalare un momento di festa per un popolo tra colori, suoni e tradizioni. Cagliaritani